Ciao ragazzi, oggi volevo spiegarvi come scaricare questo programma, si chiama DJ e serve per mixare le canzoni tipo Virtual DJ Per farlo dobbiamo andare su Safari, poi andare su Kikastor Poi quando siamo andati su qua dobbiamo scaricare Andiamo qua, cancelliamo e scarichiamo DJ Questo? No, aspettate Qua questo, io ho scaricato questo e funziona Andate qua, dovete avere torrent, utorrent ovviamente E fate download a torrent Poi quando ve l'ha scaricato Quando ve l'ha scaricato Vi troverete questo file Cliccate due volte Vi darà questa cartella E voi Vi basterà Aprire questo E trascinare DJ nella cartella d'applicazione Quando poi voi aprirete DJ Vi chiederà Di farlo partire in demo Voi lo fate partire in demo E poi Vi dirà Se lo volete comprare Oppure Mettere il seriale Voi fate Qua Lo copiate E poi lo incollate Dentro in Nella Nella riga Da mettere il seriale E così vi andrà E questo video è finito Era soltanto un piccolo tutorial Per spiegarvi come scaricare questo programma E Basta Alla prossima Alla prossima